Ora basta, il parco esige rispetto. Uno slogan coreografico a sintetizzare il senso di una domenica mattina al parco Miralfiore che ha radunato circa 200 persone unite da proteste e proposte. Quelle cavalcate dalla rete di associazioni ambientaliste La Voce del Miralfiore che fra stand al parco e banchetti in centro storico ha raccolto oltre 400 firme su una petizione che chiede una gestione diversa del parco. Una gestione che sospenda tagli scriteriati del verde poschivo in nome della sicurezza che individui professionisti dell'ambiente da inserire in un comitato di gestione che preveda a bilancio comunale una voce di spesa specifica per il principale polmone verde cittadino. Un parco come questo che è unico perché nelle marche non ce n'è un altro con tutti questi valori naturalistici e ambientali non si può gestire con la motosega e il trinciatutto. Qui si opera di cesello perché tutto quello che c'è o è un'eredità del passato o è stato voluto fortemente in fase progettuale per offrire alle persone delle sensazioni, delle emozioni, delle conoscenze. Quindi la gestione che chiediamo, che vorremmo, è una gestione che sia attenta alla fisiologia delle piante. Tagliare come hanno fatto qui è una cosa inverosimile, non la fanno da nessuna parte. Si dice che tutti questi tagli vengono fatti per la sicurezza. Facciamo un giro insieme lungo la recensione e vi faccio vedere quanti barchi ci sono da cui può entrare chiunque e poi da quando la gestione si fa tagliando quello che devi gestire. Sarebbe come se il dentista chiedete di mettere a posto i denti, ve li toglie tutti così il problema è eliminato. Certo non ce l'hai più ma non hai più neanche i denti. Una cosa che la gente deve capire anche quando non sono magari appassionati di boschi è che un bosco, anche se è fitto, anche se non ti piace e ti fa paura, ha una funzione climatica perché comunque ferma il riscaldamento estivo. Questo posto, con tutte le piante che ha, è un'oasi termica che rinfresca quasi tutto il quartiere perché il beneficio, anche se non viene mai al parco, lo senti fino a casa tua. Quindi l'attenzione che diamo è alla conservazione puntuale, precisa dei valori. Poi se vogliamo aprire un sentiero, vogliamo fare una chiaria per metterci una panchina, lo possiamo fare, ma lo si fa in maniera competente sapendo quello che si taglia, sapendo perché si taglia, sapendo che risposta ha quella pianta, perché ogni pianta risponde a modo suo, secondo la sua specie. Questo è un intervento massivo che non ha nessunissimo senso solo quello di distruggere. Fra gli ambientalisti c'è chi ha ricordato come fino al 2020 ci fosse già una gestione diversa e continuativa fra Comune, Marche Multiservizi e un comitato di esperti ambientali come Andrea Fazzi. Questo contratto comportava per il Comune una spendita di all'incirca 200 mila euro. Dal 2021, questo contratto non c'è più, il Comune sta risparmiando soldi, sta speculando se vogliamo dire soldi sul parco Miralfiore, questo va detto, perché ora la gestione è affidata sì al Comune, ma siccome il Comune non ha propri mezzi e uomini, affida interventi spot a una cooperativa, benemerita sotto tanti altri aspetti, una cooperativa sociale, molto benemerita sotto altri aspetti, ma che non ha competenze specifiche nella gestione di un patrimonio come quello del Miralfiore. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa sì di protesta, ma soprattutto di proposta. Nella raccolta firme, nella petizione di raccolta firme che nel banchetto qua dietro stiamo facendo. Proteste, ma anche proposte per il parco, elencate in sei punti della petizione. Abbiamo messo una serie di sì, nel senso che noi chiediamo al Comune una concertazione per arrivare, lo dico in sintesi, ma i punti alla petizione sono parecchi, quello di arrivare a una gestione condivisa, al Comune, all'affidamento a un organismo competente per la gestione del verde pubblico, che possa essere Aspes, secondo noi, ma possa essere anche un'altra gestione comunque affidata con un bando pubblico, quindi non con interventi dati a chi che sia, comunque a una cooperativa, ma con un bando pubblico. Chiediamo che vengano messi a bilancio soldi, almeno quelli che erano fino al 2020, e chiediamo la ricostituzione di un comitato di gestione. Grazie.